Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Questo video è dedicato alla gemella Betta che oggi compie gli anni E ho dedicato proprio questo video a della candela che doveva essere blu Spero che si noti, è un anzor blu E questo video ti ho dedicato a una cara amica, più che una cara amica E' veramente per me una persona importante E ho potuto dedicargli questo ASMR per fargli gli auguri Mi raccomando, riempiterà, riempiterà di tantissimi, tantissimi auguri Per me è molto importante E' stata per me una maestra di SNR Un'amica, una confidente E veramente ci tengo tantissimo Che gli facciate gli auguri Auguri Betta Auguri, 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 auguri Non svederò la tua età In quanto poi ci sarà una sorpresa più lonti Se riusciremo a realizzarla E questo ASMR è un po' improvvisato Ho voluto farlo come speciale Per il suo compleanno E ho uscito la candela Non per rubargli l'idea della candela Ma perché so che Betta odia il caldo E quindi ho deciso di portargli un calore Che però ti piacesse So che non amo il caldo Non amo il freddo Ma penso che in una candela ci possa essere molto calore Ma un calore buono E spero possa riscaldarti in una maniera positiva E spero che per te questo compleanno Questo shot one sia speciale Per che tutti e tutti i desideri si possano operare Spero che questa situazione Che adesso viviamo Si sblocchi Così che potremo vederci So che questa ASMR non è il mio massimo Però spero Che lo apprezzerai Spero che Veramente questo sia il tuo anno Più bello Anche per Perché comunque te lo meriti E spero davvero Davvero Tu possa Crescere tantissimo Su Youtube Che tu possa Realizzare i tuoi sogni I tuoi desideri Che tu possa Essere felice Io davvero ti auguro Felice compleanno E per tutti quelli che Guarderanno questo video Mi raccomando Lasciate sotto nei commenti Un auguro Di buon compleanno Petta Dovrete Dovrete In descrizione Il Canale di Petta Mi raccomando Se non siete iscritti Iscrivetevi assolutamente 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 Iscrivetevi Lascio il link Sotto 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 Così che potete tutti conoscerla E fargli gli auguri Questo video uscirà Un giorno in ritardo Ma comunque Meglio fare gli auguri Dopo che prima Ma lei Le prezzerà sicuramente Ora Vi auguro Una Buona serata Ti auguro Buon relax E ancora Tanti 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 Mi dispiace C'è che non ci siamo potuti vedere Ma Sono sicura Che ci vedremo presto Giocherà solo Un po' più di tempo Può realizzare per te Altri video Se non è reale Ma più belli Questo è molto Improvvisato Ma spero comunque Che ti porti un po' di gioia Un po' di Calore Anche se non ci possiamo vedere Per me È molto 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 Ti auguro Davvero Un po' di C'è Un compleanno Un compleanno E spero Che questo Mi ha Un video Sia di Conforto Di piacere E niente Ancora Auguri 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 E niente Esprimono Desiderio E A caso Anche se so che non si può fare Esprimi Desiderio Pensalo Nella tua mente Io cercherò Di sentirlo Per te Auguri Per te